Se digiti su Google la parola dati, il motore di ricerca americano ti restituisce 16 miliardi di risultati, un numero enorme, pari a 276 volte gli abitanti dell'Italia. Se invece facciamo un paragone con qualcosa di più vicino a me, che sono genovese, digitiamo ad esempio la parola pesto, Google ci restituisce 185 milioni di risultati, pari all'incirca tre volte gli abitanti dell'Italia. Tutto questo parlare di numeri perché da quasi dieci anni lavoro come data artist e designer delle informazioni. Il mio lavoro consiste nel raccogliere dati e trasformarli visivamente in fatti e storie sulla base di informazioni, come ad esempio raccogliere dati su Excel e trasformarli in grafiche che raccontano le specie cosiddette aliene, specie invasive che distruggono la biodiversità dei nostri ambienti. Oppure addirittura mappare la rete sentieristica europea, con i suoi oltre 60 km di strade percorribili a piedi, ma a volte questi dati ci raccontano altre storie, come ad esempio gli inni nazionali di tutti i paesi del mondo. Io nella mia vita ho sempre raccolto dati, talvolta inconsciamente, scattando fotografie o magari scrivendo delle note, oppure invece registrando l'audio di alcuni suoni per ricordarmi di particolari momenti, particolari emozioni. e negli anni ho creato un archivio, un archivio enorme di suoni, di dati, di immagini, di informazioni e alla fine di questa sessione per i dati ne ho fatto il mio lavoro. Ma i dati però sono un concetto un po' astratto da spiegare, quindi uso un'analogia, una metafora. Per me i dati sono come una fotografia. Questa è la prima fotografia scattata al mondo nel 1822 da uno scienziato francese e come possiamo vedere non rappresenta la realtà al 100%. È una rappresentazione mediata dalla tecnologia disponibile al tempo e dal punto di vista di chi quella fotografia l'ha scattata. I dati più o meno sono un po' la stessa cosa, sono una fotografia su una situazione, su un particolare fenomeno, mediata dalla tecnologia disponibile al tempo per raccogliere questi dati, ovviamente, ma soprattutto da chi questi dati li ha raccolti dal proprio punto di vista. E questi dati sono ovunque. Secondo uno studio di Forbes del 2018 è stato stimato che ogni giorno produciamo 2,5 quintiglioni di byte di dati, che è un numero inimmaginabile, un numero a 30 a 0. Beh, questi dati comprendono di tutto, dalle ricerche su Google all'ultimo video caricato su TikTok. E i dati sono molto importanti, perché noi con i dati misuriamo tutto, dai risultati elettorali alla crescita demografica di un paese, dal passare del tempo agli anni dei nostri cari, addirittura le tasse sui nostri stipendi. E questi dati cosa sono? Sono ovviamente numeri. Sono numeri, percentuali, frazioni, e possono essere comunicati usando dei grafici, delle tabelle, ma a volte addirittura sotto forma di vere e proprie opere d'arte. Banalmente, tutto quello che possiamo quantificare con un valore numerico e catalogare con delle variabili è un dato, e noi lo possiamo rappresentare visivamente. Ora, molti di voi penseranno solamente ad Excel, ma vorrei ricordarvi di questa fotografia, perché sempre più spesso i dati rappresentano un punto di vista e comunicano non solo fatti, ma soprattutto emozioni, storie e persone. Immaginatevi dati come un paio di occhiali, che ci permettono di vedere situazioni altrimenti impossibili da osservare. Però io ora vi dico un'altra cosa, vi dico che i dati non sono solo numeri. Ebbene sì, perché ci sono altre tipologie di dati, come ad esempio immagini, parole, addirittura suoni. E la disciplina della visualizzazione di dati ha un nome per descrivere questa tipologia di dati. Li chiama qualitativi, perché sono dati che descrivono un argomento, contraposti a quelli quantitativi, che invece l'argomento lo misurano, usando appunto numeri e cifre. Quindi mi sono chiesta, sarà mai possibile visualizzare un'immagine? o addirittura visualizzare i dati contenuti nel suono, legati a un suono? Beh, guardate questa immagine qui. Termonti non rappresenta assolutamente nulla, un insieme di linee, punti, un'immagine da usare come salvascherbo per il proprio computer, o per i più audaci da appendere addirittura in salotto. Ora vi chiederei di chiudere gli occhi e di ascoltare questo suono. Questo suono l'ho registrato durante una passeggiata in un parco di Londra, la città dove vivo, e fa parte di quell'archivio di suoni e di dati che io ho raccolto anche inconsciamente nel corso della mia vita. Ora voi vi starete chiedendo, beh, ma cosa c'entra con l'immagine di prima? Beh, questa immagine è una visualizzazione dei dati. Ma i dati usati per creare questa immagine non sono numeri, bensì il suono che avete appena ascoltato. Quel suono è un dato e contiene moltissime informazioni. Innanzitutto informazioni descrittive, come il rumore delle foglie mosse dal vento oppure le conversazioni dei passanti. Tutto quell'insieme di suoni che caratterizzano il panorama sonoro di una passeggiata al parco. Ma quel suono contiene anche altre informazioni, ad esempio informazioni più tecniche, come la frequenza, la melodia e il ritmo. Quindi non abbiamo bisogno di essere nerd per capire che un suono contiene tante informazioni quante la pagina di un libro. Finora abbiamo visto che i dati sono ovunque, dai risultati elettorali al video del tuo gatto. Però abbiamo anche visto che questi dati possono essere anche immagini, possono essere anche suoni e parole. Iniziamo appunto dalle parole. Questa è una pagina di un giornale britannico del XIX secolo e come potete vedere è piena di parole. Ma questo è anche uno dei dataset più interessanti a cui abbia mai lavorato. Proprio così, perché qualche anno fa la British Library a Londra mi ha commissionato la creazione di due visualizzazioni di dati per una mostra sulle notizie del XIX secolo. e la British Library ha un enorme archive di giornali, di quotidiani che ha digitalizzato raccogliendo una marea di dati. Lo scopo di quella mostra era quello di reimmaginare gli aspetti della vita del XIX secolo attraverso le parole raccolte in questi giornali. E una delle opere commissionate era quella di raccontare la guerra di Crimea del XIX secolo attraverso le parole usate dai giornalisti per raccontare questo fatto. E questa è la visualizzazione che ho creato. Ci sono tre anelli ognuno per ogni anno della guerra e ogni anello mostra le 50 parole più frequenti tratte da una selezione di giornali dell'epoca. E queste parole a noi ci dicono tantissime storie. Ad esempio, nel 1855 la parola pace viene citata 233 volte quasi pari alla parola attacco. E adesso ci sembrano numeri bassi però ai tempi non c'erano né Facebook né Twitter. Però queste parole ci raccontano anche altre storie come ad esempio la nazionalità degli eserciti coinvolti gli avanzamenti militari e soprattutto la tragica perdita di vite umane. E per la prima volta queste storie e proprio con queste parole entrano nelle case dei cittadini britannici soprattutto anche grazie alla formazione di una nuova figura professionale quella del corrispondente. Ora, i puristi della statistica staranno scioccati perché questa visualizzazione non usa dati numerici e non usa i famosi grafici a torta o grafici a barre ma seguitemi perché il mio lavoro mette in discussione le ipotesi su quale vocabolario visivo appartenga al mondo dell'arte rispetto a quello della statistica. E ritornando al suono come dato oggi voglio parlarvi di un'idea. Un'idea che mi ha aiutato a usare il suono per ricreare una fotografia perduta. Quando qualche anno fa è mancato mio padre stavo cercando una fotografia e come penso sia comune fra le fotografie dei nostri cari tutti noi abbiamo una fotografia preferita. Ebbene, la mia fotografia preferita è andata persa non l'ho mai più ritrovata. Quindi, nonostante la frustrazione per l'assenza di questa fotografia ho riflettuto sul fatto che quando si lavora con i dati è molto comune non trovare abbastanza dati per la propria ricerca quindi sentirsi bloccati. Quindi, ho riflettuto sul fatto che l'assenza di dati è un dato. Si ok direte voi però come fai a visualizzare i dati se non li hai? Beh, recentemente leggendo un libro mi sono imbattuta in una parola molto interessante. Questa parola è sublimazione e la sublimazione è una teoria sviluppata da Freud secondo la quale dà forma ai sentimenti inconsci attraverso narrazioni e rappresentazioni. Beh, il mondo dell'arte è pieno di esempi di sublimazione. Vi mostro un esempio. Questo è un ritratto che nel 1866 Cézanne realizza di suo padre e il padre di Cézanne era un banchiere non aveva mai approvato la carriera artistica del figlio. Quindi Cézanne decide di ritrarre il padre sublimando il sentimento di tensione nei suoi confronti e come lo ritrae? Beh, seduto un po' in bilico scomodo su questa poltrona mentre legge un giornale che probabilmente odiava e per di più alle sue spalle aggiunge un proprio dipinto una dichiarazione della propria realizzazione artistica. Questo quadro quindi combina l'amore di Cézanne per il proprio padre ma comunica anche l'attenzione del loro rapporto. Beh, vi ricordate la storia della mia fotografia perduta e anche di quell'archivio di dati di suoni che io ho costruito nel corso degli anni? Beh, perché leggendo questa storia ho pensato posso usare questa teoria della sublimazione per ricreare la mia fotografia perduta? Io sono una data artist per me i dati sono un po' come gli inchiostri e pennelli che Cézanne usava per i suoi dipinti e nella mia pratica artistica i suoni sono i miei dati. Uso questi audio per ricostruire immagini che raccontano una storia o fissano un momento proprio come una fotografia e quella fotografia perduta io l'ho ricreata. L'ho ricreata attraverso le voci e i dati. Questa è la fotografia che ho ricreato. Ho deciso di usare le registrazioni vocali di mio padre che ho trovato online tratte da due talk che individualmente abbiamo fatto a distanza di anni. Ho scaricato questi audio e li ho elaborati al computer. Dopo ore e ore passate al computer ho esportato le nostre voci che una volta rappresentate visualmente convergono in questi due cerchi uniti. E questa visualizzazione di dati quest'opera di un metro per un metro in gergo si chiama driven by data che vuol dire guidata dai dati perché qui ogni dettaglio non è casuale. Ad esempio i cerchi rappresentano la rappresentazione della grafica dell'onda sonora delle nostre voci. Il colore ad esempio è stato campionato da una fotografia del mare da cui ho strato proprio questa sfumatura di blu ben precisa e il dettaglio delle onde sonore come potete vedere un cerchio è più dettagliato e l'altro un po' meno varia in base alla lunghezza dell'audio registrato. Quindi questo mi ha insegnato questo lavoro che i dati non si limitano ai numeri che noi possiamo raccontare storie guidate dai dati perché i dati possono essere anche parole suoni fotografie immagini anche feed di social media e ho anche imparato che l'assenza di dati è un dato e la loro assenza ci racconta una storia quindi quando non troviamo dati per la nostra ricerca non disperiamoci troppo. Così come un pittore usa inchiostri e pennelli per realizzare un dipinto io uso i dati qualsiasi tipo di dati dai numeri ai suoni per mostrare e raccontare storie o a volte anche solo per creare una fotografia perduta. Grazie. Grazie.